Intanto un saluto a tutti i presenti, un saluto a tutti gli amici, agli amici amministratori, ai sindaci che come sempre qui nell'area dello stretto sono cronometricamente puntuali. Credo necessario esprimere un sincero apprezzamento per questa iniziativa, per questo seminario che va a approfondire uno degli aspetti, dei processi che porteranno alla Costituzione della Città Metropolitana, quello delle Unioni dei Comuni. Devo dire che siamo, lo dicevo poco anzi, chiacchierando con qualche amico, in grande ritardo, in grande ritardo perché i decreti attuativi sono stati prodotti con grande ritardo. Dopo l'approvazione della 42 del 2009, la legge sul federalismo che ha istituito la Città Metropolitana, c'è stato un gran fiorire di iniziative, forse più di autoattribuzioni, anche quelle legittime, anche quelle giuste. Questo è un segno anche di condivisione, quindi è apprezzabile anche questo. Ci sono state però tutta una serie di iniziative da parte di chi, anche di chi parla, si era messo nella qualità all'ora di assessore all'area dello stretto del Comune di Reggio Calabria, di tentare di sensibilizzare soprattutto i comuni della provincia, i territori, i nostri comprensori, dalla Locride all'area grecanica, alla Piana, credo anche all'area dello stretto con una serie di iniziative partecipate, soprattutto con i sindaci, per tentare di portare a loro conoscenza, almeno di quelle che non l'avessero ben presente, quali erano i vantaggi e qual era il processo che doveva essere portato avanti, anzitutto, dagli amministratori della provincia di Reggio Calabria. È passato tutto il tempo, c'è stata una fase di stallo, devo dire che dobbiamo ringraziare i club service e alcune associazioni che hanno fatto un bel lavoro sostitutivo di quello delle istituzioni. Ora ci siamo quasi e quindi questo ritardo va sicuramente colmato, va colmato anche in tempi brevi perché la legge, come è noto, fissa una serie di paletti, una serie di procedure che non sono state mai, che restano in piedi. Voi immaginate se ancora avessimo dovuto mettere in piedi il consiglio provvisorio della città metropolitana che pure era previsto, predigere uno statuto provvisorio, mettere in piedi la proposta formale di istituire la città metropolitana perché la 42 era molto chiaro in questo, cioè il comune o la provincia dovevano coinvolgere almeno il 20% dei comuni per formalizzare la costituzione del consiglio provvisorio della città metropolitana. Tutta una serie di passaggi che credo ancora sono in piedi e però il primo gennaio 2014 è vicino, troppo vicino e quindi si tratta di accelerare ormai questo percorso. Vengono le iniziative che sono state assunte oggi e domani, soprattutto per quanto riguarda il ruolo del comune perché credo che uno degli aspetti fondamentali, poi diremo qualche cosa anche su cose forse scontate, pleonastiche, ma da sottolineare sempre. Il ruolo dei comuni della provincia, io dico della provincia di tutto il territorio provinciale è assolutamente fondamentale, altrimenti la città metropolitana che dovrebbe sostituire l'istituzione provincia rischia di avere strada facendo dei problemi molto seri. Per cui io saluto con molto piacere stamattina Emanuele Oliveri che come sapete è il presidente del comitato di sindice della piana di Gioia Tauro, so che dovrebbe esserci anche Imperitura, ma Imperitura è uno che arriva con i tempi giusti quindi perché poi il solo dell'alocrite è quello che è, ma al di là delle battute voglio dire è importante il coinvolgimento di tutti i comprensori, dicevo dirò avanti perché è importantissimo, perché vi è una differenza atavica qua storica rispetto alla città di Reggio Calabria al capoluogo perché c'è stata sempre una sorta di concezione regiocentrica di questa provincia, d'altra parte però la polverizzazione dei comuni del nostro territorio, io penso alla Locro con i suoi 42 comuni ma sulla piana siamo Emanuele a 33, la dice lunga e non a caso che chi parla proprio per favorire i processi di aggregazione dei comuni, perché io sono profondamente convinto proprio perché a Monte sono stato tra coloro che ci hanno creduto alla città metropolitana tantissimo, non dico più di tanti, ci ho lavorato quattro anni con costanza e continuità quasi quotidiana, sapete anche di una lista fatta nel 2007, allora l'area dello stretto ma l'obiettivo ovviamente strategico che era quello della città metropolitana e poi quello definitivo della conurbazione tra le due armi, forse lo vedranno i nostri nipoti, quindi ruolo importante dei comuni e non a caso dicevo chi parla ha proposto in consiglio regionale e fatto approvare dal consiglio regionale una legge che favoriva l'aggregazione dei comuni soprattutto di quelli montani e di quelli che comunque avevano partecipato nel tempo alle comunità montane, è una cosa che spesso viene dimenticata, poi questa legge è stata anche aggiornata ma mi ero preoccupato in tempi non sospetti proprio pensando alla città metropolitana di far sì che queste aggregazioni venissero a luce, venissero favorite attraverso una serie di strumenti che la legge metteva a nostra disposizione proprio perché soprattutto i comuni collinari, i comuni montani sono quelli in genere più divisi anche se l'area dello stretto devo dire i comuni dell'area dello stretto sono un esempio modello di sinergia istituzionale, lo dico non per piageria, lo sanno gli amici sindaci, tante occasioni, non c'è iniziativa in questa vallata anche dell'inaugurazione di una piazza che non veda tutti i sindaci presenti, questo la dice lungo quindi sul ruolo che l'area dei comuni dell'area stretto potranno comunque svolgere nella nuova città metropolitana, però siamo in grande ritardo, siamo in grande ritardo pur avendo ben presente e alcune cose sono state pure ricordate del ruolo importante che avrà sicuramente la città metropolitana. Io credo che se ne è parlato in mille occasioni anche qualche giorno fa presentando un paio di giorni fa presentando questa iniziativa, ma tra i vantaggi mi piace sempre sottolineare alcuni vantaggi economici forse per deformazione amministrativa e professionale, cioè le città metropolitane, dicevo qualche mezz'ora fa all'avvocato Paolo Romeo che saluto con particolare affetto, noi a Reggio stiamo, sta partendo, tra qualche settimana partiranno i bandi ministeriali sulle zone franche urbane, sulle 5 zone franche urbane della Calabria, con tutti i vantaggi che produrranno sulle aziende insediate o su chi si vuole insediare. Noi con la città metropolitana, con il credito d'imposta e con tutti i vantaggi che ne deliveranno collaterali, in fondo saremo una grande area, una grande zona franca urbana, così in modo forse improprio. Questo la dice lunga sul ruolo, sull'importanza dell'adesione di tutti i comuni della provincia, lo dico agli amici sindaci, ma avremo modo, io mi anticipo, che qualche iniziativa, anche per il ruolo che svolgo di Presidente della Commissione di Attività Produttive e Fondi Comunitari della Giunta del Consiglio regionale, qualche iniziativa, malgrado sarò costretta, vorrei dire, ad assumerla, anche perché stiamo andando a programmare i fondi POR 2014-2020 e certamente non vogliamo, l'ho già detto agli amici assessori in tutte le sede, in tutte le salse, che non vogliamo certamente pacchetti calati dall'alto e quindi la programmazione del PON di POR 2014-2020 dovrà vedere i sindaci, le amministrazioni dal basso fare proposte concrete, poi ovviamente queste proposte andranno valutate, filtrate in un quadro più complessivo e certamente la città metropolitana è una prospettiva a breve dalla quale non si potrà prescindere anche con riferimento alla programmazione di questi fondi. E quindi dicevo, in questo seminario si intrecciano tutta una serie di questioni importantissime, quindi il ruolo delle associazioni dei comuni che ovviamente vanno accelerate, la prospettiva della città metropolitana rispetto alla quale c'è tutto un processo anche burocratico, istituzionale che bisogna assolutamente accelerare perché non possiamo farci trovare pronti alle scadenze ormai imminente. Forse non se ne è parlato per tanto tempo, se ne è parlato molto poco perché si pensava che le province, o si sperava soprattutto, molti speravano che le province, con tutto il rispetto ovviamente per questa istituzione, però la loro soppressione non è che è una scelta nostra. Alla fine potrà trarsi l'esistenza all'infinito, così non è, così non sarà sicuramente e quindi saremo costretti, come dicevo, ad accelerare questi tempi. E poi infine il ruolo, dicevo, delle unioni dei comuni, dall'area dello stretto grecanica. Io un'ultima cosa vorrei sottolineare, guardate, noi l'area metropolitana, la città metropolitana sicuramente verrà realizzata, ma non possiamo fare comunque una città metropolitana a tutti i costi solo per mettere in piedi un nuovo organismo per quanto importantissimo. Noi da stamane, da oggi, io lancio un po' un messaggio e non credo di dire una grande novità. Credo che un progetto strategico che coinvolga tutto il territorio provinciale vada da subito messo in campo, mettendo accanto amministratori, esperti e chi di queste cose, accanto a me c'è l'architetto Potordì, che di queste cose credo ne capisce tante, perché un progetto strategico per l'area dello stretto l'avevamo elaborato, se non ricordo male, Saverio e anche al Comune di Reggio Calabria qualche anno fa. Senza un progetto strategico, quindi una bussola che ci guidi nella realizzazione dell'area metropolitana per coinvolgere fino in fondo tutti i territori, perché guardate, uno dei grandi problemi è la differenza dei comuni della provincia, differenza giusta, legittima e giustificata. Io ho detto anche perché i vari comprensori hanno specificità particolari. Siamo andati sulla piana, noi abbiamo un'agricoltura che è Langue, rispetto alla quale stiamo assumendo finalmente, lo faremo entro qualche settimana, dei provvedimenti straordinari, abbiamo reperito delle risorse di concerto con l'assessore, abbiamo la grande questione del porto, abbiamo la grande questione del turismo, abbiamo tutta una serie di questioni che vanno dallo zomero, quindi abbiamo una serie di specificità che vanno valorizzate. Lo stesso vale per l'area dello stretto, Gambari, Maremonti, Scilla, Bagnara, la Costa Viola e così via. Abbiamo l'area grecanica che è un'area marginalizzata, dove da due anni ci si rimpalla tra centrale sì e centrale no, però abbiamo, l'ho detto nella mozione che ho presentato in questi giorni, ma era una vecchia idea che io avevo sottoposto al Consiglio regionale già nel 2010, abbiamo quel monumento delle OGR che rimane là e che può essere un incubatore di imprese straordinarie, poco fa mi ha chiamato un imprenditore mentre salivo Cesare Diano per dire io sono un imprenditore che al porto in quell'area ho investito tanto per la valorizzazione. L'area grecanica quindi con le sue specificità, con i centri, con BOVA, con STAIT, con tutto quello che significa. E lo stesso vale per la LOCR che ha una sua specificità. Allora un grande progetto strategico e concludo è assolutamente necessario perché noi stiamo lavorando stamattina su un segmento, su una delle grandi questioni sul ruolo dei comuni, in questo caso dell'area dello stretto rispetto ai quali voi ci vedrete sicuramente accanto, io vi invito ad accelerare questo processo caro sindaco, cari sindaci, cari amici sindaci. Ovviamente la regione nella programmazione comunitaria non solo in funzione della città metropolitana vi sarà accanto nel senso che valuterà fino in fondo le proposte che emergeranno e rispetto alle quali come dicevo terremo degli incontri a partire dalle prossime settimane. Però ecco il vero problema è quello di stringere i tempi e coinvolgere tutti. Quindi benvenga necessariamente questo grande progetto strategico che solo così tutti i territori della nostra provincia si sentiranno perfetti, si potranno sentire perfettamente integrate e potrà crescere quella cultura metropolitana che significa tante cose, noi come ben sapete fare parte di una città metropolitana significa avere interlocutori a livello nazionale, europeo e oggi non ci sogniamo neanche, i giornali leggiamo tutti, siamo tutti addetti ai lavori e quindi far crescere quella cultura metropolitana che è il presupposto necessario per realizzarla e non solo crederci, credo che sia un fatto assolutamente preliminare rispetto al quale da oggi credo si può cominciare a ragionare in termini nuovi. Quindi io vi ringrazio, scusate per le considerazioni anche se volete un po' disorganiche ma alcune cose le volevo dirle perché sono profondamente convinto di quello che dico e sono convinto che alla fine questa grande battaglia che è andata un po' troppo a rilento alla fine e questo territorio, il territorio della provincia di Reggio sicuramente la vincerà e la vincerà bene. Grazie e buon lavoro.